Quali sono le monete che conservo a lungo termine? Cioè, quali sono quelle monete dove io ci ho messo dei bei sordini e sto conservando a lungo termine? Tante persone mi hanno contattato su Instagram, mi hanno commentato su YouTube quali sono le monete che tu conservi, su quale moneta credi di più e quindi mi ritrovo qui a fare questo video dove vi dico effettivamente le monete che io conservo. Innanzitutto, diciamo, in questi ultimi giorni ho cambiato alcune cose. Avevo delle monete conservate che però poi ho deciso di vendere. Perché? Ho fatto un'analisi più accurata, più approfondita e ho voluto fare delle valutazioni su quale moneta conservare di più. Perché poi cosa succede? Se conservi tante, tante monete, i tuoi soldi ovviamente li devi smistare su tutte quante. Allora, il ragionamento che ho fatto io è questo qua. Voglio conservare non troppissime monete in modo tale che quello che poi ci vado a mettere in cripto posso metterlo comunque in un modo più sostanzioso sulle cripto che tengo. Ad esempio, invece di fare 100, 100, 100, 100, 100 e 100 posso fare 200, 200, 200, 200 e 200. È in modo tale che se una cripto o l'altra va a crescere comunque in un certo periodo posso avere più profitto. Come si dice a Napoli, se no sparte ricchezze e diventa povertà perché vado a mettere pochissimo su tutte le monete. Quindi ho fatto questa valutazione. Se prima ne avevo 15, mo ne tengo tipo 6, 7. La prima cripto è Ethereum. Ethereum io non volevo comprarla, infatti l'ho comprata in questi giorni. Non intera, ci ho messo tipo 600 euro. Ma la mia intenzione è quella di comprare un Ethereum intero. Ovviamente non mi va di prendere 2.500 euro, 2.000 euro e metterli direttamente su Ethereum. Ho preferito acquistarne una parte, dare comunque anche spazio alle altre monete. Ho deciso di prendere Ethereum perché, si sa, le prospettive di Ethereum sono ottime quindi nel portafoglio non volevo farla mancare. Anche se ero più predisposto a dare spazio a quelle altcoin che comunque potevano crescere in un modo esagerato poi nel corso del tempo. Comunque se ho deciso di prendere anche Ethereum, sperando che poi man mano magari me la vado a comprare intera, sempre se all'improvviso non arriva a 10.000 prima che io l'acquisto, ma va bene. Seconda cripto, VET. VET l'ho acquistata un po' di giorni fa. Già ne tenevo un po', tipo 80-100 euro. In questi ultimi giorni ho messo altri 300-400 euro su questa cripto. Non so perché mi sentivo di fare così e ci ho azzeccato. Anche perché da ieri a oggi comunque sta cominciando comunque poi a salire. L'ho comprata tipo a 16 centesimi, adesso è a 23-24-25. Ovviamente su ogni cripto che io vado a scegliere da tenere nel portafoglio, vado a fare comunque un'analisi approfondita, vado a capire che progetto c'è dietro. Per capire se veramente può essere redditizia in un futuro e se il progetto dietro può essere consistente. In questo video non vi elenco i progetti di ogni cripto che ho acquistato, anche perché non me li ricordo, però se ho acquistato determinate monete c'è sempre un motivo e dietro c'è un progetto interessante, almeno per me. Quindi bette, bette l'ho acquistato in questi giorni, ci ho messo tipo 300-400 euro e ovviamente gli andrò a mettere sempre altri soldi man mano con il tempo e credo tanto in questa cripto. Avevo Dogecoin, avevo Dogecoin fino a qualche giorno fa, ma poi l'ho venduta perché è cacca, è pupù, è proprio schifezza, è shitcoin. Ragazzi non puntate su Dogecoin, non la guardate nemmeno perché una cripto che arriva alle stelle, poi riscende, poi Elon Musk dice, ah Dogecoin salta, arriva sull'alluno, poi scendete sulla terra, non mettete i vostri soldi su queste cacche perché veramente sono cacche. Ma qualcosa di più importante che potete fare è quello di conservare a lungo termine delle cripto dove dietro c'è un progetto consistente perché Dogecoin come progetto non ha un cacchio, è una barzoletta. Io la tenevo, l'avevo acquistata a 4 centesimi e la stavo conservando a lungo termine. Perché però questo? Era tutto fumo, ok? Quello che io sono andato a vedere prima di acquistare Doge, innanzitutto ero molto più inesperto e quindi non mi focalizzavo troppo sui progetti che c'erano dietro alle cripto. Poi ultimamente, tipo una settimana fa, avevo Dogecoin, avevo fatto tipo il 300%, ho detto molla vendo anche perché non è una cripto che mi fa impazzire. Avendo approfondito, visto che è solo speculazione, è solo azzardo, ho detto io non voglio rischiare i miei soldi in questo modo, soprattutto se devo conservare una cripto a lungo termine e devo metterci soldi periodicamente, ma assolutamente no. Quindi ho preso quei soldi da Dogecoin e li ho messi, comunque lo smistati su altre cripto. XRP, vabbè, penso che lo sapete, se magari avete visto qualche video precedente dove vi ho detto che ho fatto tipo il 300% di guadagno. In XRP la sto conservando a lungo, lungo, lungo termine ed è una cripto che sto conservando da gennaio, febbraio. Poi c'è CHZ, il progetto che c'è dietro me lo ricordo ed è praticamente la cripto dello sport. Ho deciso di acquistare questa moneta perché credo che nel mondo dello sport, del calcio, dello sport in generale, possa esistere una cripto che possa dare moltissimi vantaggi e quindi ho deciso di conservare anche CHZ. DOT è un'altra cripto che conserva nel mio portafoglio e l'ho comprata tipo a 32-33 euro. Adesso è a 40, quando è? 42, ma ne ho comprate solo 3 perché ovviamente per le cripto che già stanno sui 30-40 euro è un problema, vabbè, però pian piano gli andiamo a fare un piano di accumulo e comunque li rimettiamo sulle soldine. Ne ho tipo 3 o 4 di DOT, con il tempo voglio sempre acquistarne altre perché anche DOT è un grandissimo progetto. E infine LINK e ADA, queste sono tutte le cripto che attualmente sto conservando. Ogni giorno sono alla ricerca sempre di progetti interessanti, quindi magari se conoscete qualche cripto che dietro ha un bel progetto, fatemelo sapere che io sono predisposto a prendere questa cripto, la compro e la metto nel mio portafoglio. Per adesso, tra tutte queste cripto che tengo nel mio portafoglio, ragazzi, devo dire la verità, sono soddisfattissimo perché vedo i guadagni giorno per giorno aumentare e vedo una bella prospettiva in quest'anno, nei prossimi anni. Penso di aver detto tutto, fatemi sapere se anche voi state conservando determinate monete, fatemi sapere se conoscete qualche cripto molto interessante che io subito lo aggiungo al portafoglio. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti perché sennò qua ci arrabbiamo, perché qua siamo nervosi. E ne vedo più, ciao!